Sono già pronti ancora una volta dire no all'arrivo delle 6.390 tonnellate di rifiuti rientrate dalla Tunisia i cittadini del comprensorio di Persano. La prossima settimana infatti 213 container lasceranno il porto di Salerno e l'hub dell'accompagnia Amuroso dove sono stazionati da un mese per essere trasferiti nell'aria individuata dalla regione Campania per lo stoccaggio provvisorio in attesa di essere smaltiti definitivamente negli impianti previsti ma in attesa anche di chiudere l'inchiesta alla quale sta lavorando la procura di potenza che ha iscritto nel registro degli indagati sette persone. È stata proprio la procura diretta da Francesco Curce che vede al lavoro il PM Vincenzo Montemurro a dare l'ok al trasferimento dei rifiuti dopo una prima analisi che ha escluso direttamente al porto di Salerno la presenza di sostanze pericolose all'interno dei rifiuti che la società SRA di Polla aveva inviato in Tunisia e che sono poi state rispedite all'Italia nell'ambito di un'inchiesta sul traffico internazionale di rifiuti che ha visto arrestare il ministro dell'ambiente della nazione nordafricana. Martedì in prefettura Salerno ci sarà un doppio incontro, uno più politico alla presenza anche del vicepresidente della regione Campania, Fulvio Bonavitaco, l'assessore all'ambiente ed uno più tecnico per definire i dettagli del trasferimento dei 213 container a Persano. Nel frattempo, come dicevamo, le popolazioni sono pronte alla mobilitazione perché, come scrivono nella locandina con cui hanno annunciato la nuova iniziativa di protesta, vogliono evitare che la Piana del Sele diventi la pattumiera della campagna.